Sono state premiate le due scuole vincitrici del concorso Giornalino Amico, inserito nel progetto Bullismo della provincia di Gorizia. Il concorso, rivolto alle quarti e alle quinte elementari e a tutte le classi delle scuole medie, chiedeva di realizzare delle storie a fumetti sul tema del bullismo. L'obiettivo del progetto è la sensibilizzazione degli studenti su un problema in larga crescita nelle scuole italiane. Per le scuole primarie è stato premiato il fotoromanzo della quarta B delle scuole Madri Orsoline di Gorizia, mentre per le secondarie ha ricevuto il premio la seconda B della scuola media statale di Romance di Sonzo, che ha presentato al concorso Il Fumetto Una Dura Lezione. I due elaborati sono stati illustrati da una fumettista e inseriti all'interno del giornalino Amico, realizzato dalla società editrice Vannini. Hanno partecipato molte scuole della provincia di Gorizia, hanno risposto all'appello e attraverso un grosso lavoro fatto dagli insegnanti delle scuole del primo ciclo della provincia, i ragazzi hanno risposto, hanno risposto secondo le richieste che erano state fatte. Quindi riflettendo sul tema del bullismo, parlando sul tema del bullismo, che non è un argomento facile da affrontare. A volte si pensa al bullismo come una cosa che accade altrove, che a noi non accadrà mai. Molto spesso accade nelle scuole vicino a noi, nella nostra scuola, ed è sempre molto difficile confessarsi, dirlo, ammettere che esiste. Quindi il primo nostro obiettivo è stato quello di parlarne affinché sia possibile parlarne, ci si renda conto che è possibile parlarne, che è doveroso parlarne.